Anche dei lavoratori della Michelin dello stabilimento di Tribano, la multinazionale ha deciso di tagliare 400 posti di lavoro. Nel Padovano sono un centinaio tra dipendenti diretti e indotto. Beppe Rovera. Rappresentiamo quella componente di lavoratori all'interno del magazzino Michelin di Tribano che non sono dipendenti di Michelin ma sono facchini che lavorano per un'altra società. Siete a rischio anche voi? Siete a rischio anche noi perché Michelin ha deciso di chiudere interamente il magazzino che è aperto dal 1998. A lavorare a Tribano sono 100 persone, 28 sono dipendenti di Michelin, 35 sono dipendenti dell'SRL come facchinaggio e altri 5 sono dipendenti di CEVA e altri 50 lavoratori sono gli autisti.